A Palermo, a Palazzo d'Ornea, sede della Presidenza della Regione, il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. Autonomia differenziata, insularità e ripristino della elezione diretta per le province sono stati i temi affrontati. Un incontro proficuo, sereno e costruttivo con il Ministro Calderoli. Autonomia differenziata, in sintonia con quello che prevede la Costituzione, 116 e 117, in forza di quali alcune regioni, se vogliono, possono chiedere maggiori competenze. Ma un discorso sereno sulla individuazione di quelli che sono gli obbligatori, i livelli di essenziale delle prestazioni, che assicurano uniformità su alcuni temi sociali, di servizi, che lo siano in tutto il nostro territorio. Abbiamo toccato anche, è un termine entro cui in un anno dovrebbe il Governo individuare questi livelli, però è un termine, ha detto il Ministro Calderoli, non perentorio e questo ci rassicura. Il tema dell'insularità, ho chiesto al Ministro di introdurre norme attuative del principio dell'insularità del 119 della Costituzione, che prevede misure perequative per questa marginalità geografica. E poi ci ha confermato l'intenzione del Governo di avere a breve un'ipotesi di schema legislativo che preveda finalmente il ritorno alle province con un'elezione diretta da parte dei cittadini. Ma un incontro utile, indispensabile per approfondire la materia dell'autonomia, la possibilità che si crea per le regioni a statuto ordinario e anche per le regioni a statuto speciale, un approfondimento sull'insularità introdotta in Costituzione ma di cui manca la legge di attuazione e per finire l'argomento delle province ormai non più elette da parte del cittadino ma come ente intermedio di nomina di secondo livello e quindi la necessità che il Presidente e i Consigli Provinciali tornino ad essere eletti da parte del cittadino con proprie funzioni che sono necessarie e debbano essere svolte. Sono 22 anni che i livelli essenziali delle prestazioni sono citati in Costituzione e quindi quelli che sono i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Fino ad oggi nessuno l'ha mai fatto e quindi per poter garantire che quei diritti vengano garantiti su tutto il territorio nazionale bisogna prima di tutto definire e fare un elenco di questi diritti. Dopodiché si stabilirà costi e fabbisogni standard in modo che vi siano anche le risorse per poterle garantire su tutto il territorio nazionale.